Bentornati su Spunti e Spuntini, adesso diamo la linea ai nostri inviati, alla prima dei nostri inviati che oggi sono in giro per la Valdichiana per raccontarvi storie e soprattutto informarvi su tantissimi servizi importanti appunto per il cittadino. Come dicevo diamo la linea adesso a Maria Stella Bianco che si trova a Castiglion Fiorentino e insieme al suo ospite ci parla delle novità degli ecobonus e dei bonus edilizi. A te Maria Stella benvenuta. Ciao Ilaria, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi telespettatori, appunto io sono insieme al mio operatore di quest'oggi che è Cesare Baccheschi che si trova dall'altro lato della telecamera. Siamo a Castiglion Fiorentino appunto e insieme a Franco Limoni. Franco con lei appunto andiamo a parlare un po' di questi bonus, soprattutto del 110 che insomma è un aspetto importante per chi vuole rifare casa, per chi vuole ristrutturare casa. Innanzitutto parliamo dei bonus e poi delle tante difficoltà che si celano dietro questi aiuti. Certo, allora è chiaro che questi bonus sono stati per il nostro comparto, quindi il comparto edile, ma non solo perché anche su altri settori sono stati degli incentivi veramente validi che hanno veramente funzionato fino ad oggi. Nel proseguo non lo so, è lo Stato quello che deciderà se limitarli, se rinnovarli o se toglierli, questo è tutta una questione da vedere e da determinare. E chiaramente, come ho detto prima, sono stati di grandissimo aiuto. Quindi l'incremento che c'è stato, io parlo ora per il nostro settore, ma penso anche per tanti altri settori, l'incremento che c'è stato da un paio d'anni a questa parte è stato un incremento, secondo il mio punto di vista, notevole, perché sicuramente la cosa ha funzionato. Di contropartita ci può essere ora delle problematiche che si vengono a verificare dovute agli aumenti dei costi, dovute a tante problematiche che stanno sempre di più opprimendo il nostro settore e forse sicuramente anche altri settori. Ecco, quindi è vero Franco quello che si sente, ovvero che questi materiali, ne vediamo alcuni anche alle nostre spalle, di fatto sono aumentati di prezzo e questo è un bel problema. Certo, certo, questa è una cosa ormai appurata e saputa un po' da tutti, perché i materiali hanno fatto, secondo il mio punto di vista, dei grossissimi aumenti, non degli aumenti. Dei grossissimi aumenti, se poi saranno giustificati o no, questo è da vedere, però è chiaro che in questo momento su tanti comparti sono insostenibili. Per quanto invece riguarda, torniamo un attimo a parlare di bonus, perché appunto questo 110 di fatto è quello più impegnativo, è quello che consente di rimettere a posto casa veramente al 110%. E adesso c'è questa novità, ci sta lavorando il governo, che potrebbe essere prorogato solamente per i condomini, quindi non per le case singole e non per le villette. Certo, è chiaro che se fanno anche questa proroga per i condomini è positivo, però bisogna pensare che per esempio nel nostro comparto le cifre, il volume d'affari più notevoli che si viene a verificare è con i privati. Perché il privato, mentre il condominio ha delle problematiche, quindi riunioni di condominio non tutti sono d'accordo, si sa i condomini in poche parole come funzionano. Il privato quando decide di ristrutturare casa e quindi di approfittare di queste agevolazioni, è chiaro che se lo fa, sa in partenza che ha la possibilità di poterlo fare e lo decide abbastanza rapidamente. Quindi anche i tecnici stessi che poi vanno a fare le pratiche per poter poi effettuare questi interventi sono più agevolati rispetto a dover interagire con dei condomini che qualche volta qualche problematica la tirano fuori. C'è comunque fiducia che magari ci possa essere un'apertura anche per le case singole? Ma fiducia si spera, anche perché se la speranza finisce, come ripeto sempre, se questi bonus dovessero andare a essere molto limitati, è chiaro che io penso che purtroppo ci sarà un crollo nelle vendite. Perché i condomini, per quanti possano essere, non sono mai equiparabili alle abitazioni civili di un singolo privato, minimamente. Quindi è vero che nella città vediamo condomini e condomini, ma fate conto che la città è abbastanza ristretta a confronto al territorio nazionale. Quindi tutto ben venga anche nel condominio, però dovrebbero incentivare ulteriormente anche questi bonus sui privati, che sono sicuramente l'anima essenziale poi del commercio. Quindi si parla del 110, staremo un po' a vedere, ci sono anche dei contributi importanti per quanto riguarda la ristrutturazione interna però delle abitazioni? Certo, sicuramente. Quindi sono dei contributi anche questi molto sensibili, che quindi aiutano un po' tutto quello che il privato decide. Io parlo di privato perché anche per la ristrutturazione interna più che altro è il privato. Quindi tutto quello che il privato poi decide di fare internamente. Beh, sicuramente questi bonus quindi sì, sono una manna dal cielo per i privati, insomma anche per i condomini, ma anche per voi che operate nel settore dell'edilizia. Questo è quello che posso capire dalle sue parole, Fran? Certo, sicuramente. È chiaro che questo bonus dà una mano a tutto il comparto edile, ma non solo, perché uno vede che il comparto edile è la rivendita o il grossista o così. Ma poi c'è tutto il mondo che gli gira intorno, i trasportatori, i vari produttori. Quindi è evidente che questo è una cosa importante che non copre solo come si può vedere una rivendita, la rivendita. Quindi è molto importante che questi bonus possano essere ulteriormente rinnovati. Prima di chiudere, Franco, un'ulteriore cosa. Prima di andare in onda c'era anche il discorso che lei mi parlava di questo bonus idrico. Questo di cosa si tratta? Che cos'è? Allora, il bonus idrico è stato proposto proprio per dare un ulteriore aiuto alle aziende che producono tipo rubinetterie, sanitari da bagno, queste cose qua. Il bonus idrico è in funzione del risparmio di acqua. Quindi i vari sistemi di erogazione dell'acqua, i vari sanitari da bagno o via discorrendo, vengono fatti in maniera abbastanza controllata nella fuoriuscita dei liquidi. Quindi nella fuoriuscita delle acque e quindi salvaguardare lo spreco di queste acque. Ecco, quindi di bonus veramente ne siamo pieni, l'aria come puoi ben capire. Franco, quindi non è un ottimo momento per fare casa, insomma, ce lo dica sinceramente. Io dico di no, però mi auguro che le persone non la pensino come me e che chiaramente continuino. E mi auguro che lo Stato, soprattutto, continui a dare questi incentivi per poter dare un input ulteriore a questa economia che in questo momento mi mette qualche dubbio. Io ti ringrazio, ringrazio Franco Limone, Ilaria ringrazio anche te per la linea e ci vediamo tra pochissimo perché ci spostiamo. Ci vediamo tra poco con un altro argomento, grazie anche al tuo ospite, speriamo di aver dato informazioni importanti per chi decide di ristrutturare casa in questo momento e quindi fare anche un po' il paragone tra l'acquisto e la ristrutturazione. Grazie a tutti i nostri telespettatori che ci seguono fin qui, che ci hanno seguito fin qui, ma non cambiate canale perché torniamo tra pochissimo e parleremo di castagne.